Oggi volevo fare aperitivo, allora ho deciso di andare in una piccola vineria vicino casa. Molto carina e accogliente con queste luci soffuse. Abbiamo optato per un Franciacorta Zero. In teoria è senza zuccheri, ma non chiedetemi cosa voglia dire, perché di vini me ne intendo poco o nulla. Ad accompagnare ci hanno portato del salame, parmigiano e taralli. Un po' pochino, ma ci sta. Alla fine abbiamo speso 5 euro a testa. Ciao!